Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Buonasera, buonasera, benvenuti al nostro punto di luce, sempre con Don Roberto Ponti. Buonasera Don Roberto. Buonasera Adriana e bentrovati a tutti. Allora, il tema di questa sera parte dal chiedere scusa, cosa vuol dire chiedere scusa, chiedere perdono e poi perdonare. L'incontro di due persone dove una delle due ha sbagliato sostanzialmente. Il tema del perdono è molto ampio e tocca tutti indistintamente perché addirittura possiamo perdonare a noi stessi qualche errore che facciamo, qualche situazione che incontriamo e che poi ci pesa un po' e quindi dobbiamo riattualizzare o risentire nostra per poter andare avanti. Ma ancora di più nei confronti degli altri, di chi c'è vicino o lontano, a volte si creano delle situazioni che strappano i rapporti, che creano una situazione di conflitto, di incomprensione e quindi poi dopo bisogna ricostruire, bisogna fare un percorso per ricostruire quella situazione che è venuta a mancare di dialogo, di comprensione, di rapporto reciproco. Sostanzialmente quando si perdona bisogna capire se perdonare vuol dire appunto accettare o diventare più forti, andare avanti, no? Perché secondo alcuni è una forma di debolezza, secondo altri invece è una forma di forza. Perdonare se è fatto nel modo autentico significa avere una personalità formata, una personalità capace di capire e di capirsi, quindi è una vittoria, ma perdonare significa non poi voler prevalere sull'altro, significa ricostruire un vero rapporto di equilibrio e anzi ancora di più di vera comprensione reciproca. Solo così c'è il vero perdono, che non significa mettere in gioco, altrimenti il tema si allargherebbe troppo, anche le dimensioni di giustizia, di riparazione. Ecco, ci sono tanti aspetti che poi potrebbero entrare in questo tema. Adesso vogliamo un po' affrontarlo dal punto di vista più umano della vita quotidiana, che cosa serve per mettere in gioco il perdono e poi magari entreranno nella nostra riflessione anche situazioni che abbiamo vissuto e che hanno bisogno di qualche aiuto per andare avanti. Però come sempre partiamo dalle opere d'arte, ne hai scelte quattro che ci fotografano quattro tipi di perdono diversi. Sì, ci sono tante opere d'arte che affrontano il tema del perdono, ne ho scelte alcune. Ne ho scelte ad esempio una prima, che è del pittore Luigi Filocamo, che ha proprio per titolo Il perdono. Questo pittore si è espresso soprattutto in un'arte figurativa di abbellimento delle chiese, quindi la sua pittura rievoca sempre qualche cosa di religioso. In questo quadro vediamo una scena che è molto, se vogliamo, di ambiente laico, così non è direttamente religioso. Si vede un figlio che è inchinato con il capo chino, che non guarda negli occhi il padre, e il padre invece ha le mani abbracciate e sembra accoglierlo, quindi sembra, anzi, esprime il perdono. Sembra un po' la parabola del figlio prodigo. Per questo, diciamo, il fatto che il pittore Luigi Filocamo abbia espresso tante opere d'arte con un retroterra religioso, evangelico, ci può far capire che magari dietro c'è la parabola del padre misericordioso del figlio prodigo. Quindi questo quadro che... Una visione laica della parabola, diciamo così. Del secolo, ha vinto anche dei premi perché proprio esprime bene questo senso del perdono, dell'accoglienza, di chi chiede il perdono e di chi lo offre. Ecco, ci sono queste due dimensioni e poi c'è anche un terzo che è lì presente, forse è quello che fa anche un po' da intermediario, a volte serve anche questa figura. Sì, a volte non ci si riesce a incontrare tra due posizioni molto distanti, a volte serve anche l'intermediario. Secondo quadro, molto diverso, qua c'è la folla. C'è una folla, è il pittore francese, il pittore e poeta francese Jules Breton, che illustra il perdone di Kergoat, è un olio su tela, un quadro molto grande che illustra una scena che si è svolta nella Cornovaglia, una scena di perdono collettivo, ecco, tutti vanno in processione verso una chiesa per andare insieme a chiedere il perdono. Quindi a volte c'è anche questa dimensione del perdono che va tenuta presente, perché si vive come società, come comunità, una situazione che ha bisogno di cambiare. Si deve chiedere perdono, in questo caso si chiede il perdono di Dio, ma può essere anche il perdono che si chiede tra comunità diverse, tra realtà diverse che non sono fatte di una sola persona, di una sola testa, ma di tante persone che poi insieme hanno bisogno di ritrovare un modo di comunicazione, una relazione e quindi riaprire il dialogo vero. Qui è fatto come una richiesta di perdono verso Dio. Una richiesta di perdono collettiva. Si è tutta la folla che chiede insieme il perdono. Un terzo tipo di perdono è quello della confessione. Eh sì, qui entriamo un po' nella tematica più prettamente religiosa del perdono, che fa parte proprio dell'esperienza di fede, perché è in gioco anche quello che è il peccato, quindi l'allontanamento da un percorso regolare, giusto, che chiede poi di essere ricostruito. E in questo, nella fede cattolica, c'è anche un sacramento che è come un secondo battesimo, che è la possibilità di ricostruire quel dialogo pieno con il Signore che inizia nel battesimo. E questo sacramento, lo sappiamo, si chiama la riconciliazione, il perdono. E quindi questo quadro lo illustra bene, ha dei particolari molto interessanti, con questa donna che si avvicina al confessionale per fare la sua confessione, chiedere il perdono. E poi c'è questo intermediario che è il sacerdote, che dà il perdono in nome di Dio. Sì, e quindi è un momento molto intimo, quello del confessionale, il rapporto tra la donna e il sacerdote che rappresenta Dio. Quarto tipo di perdono. E qui andiamo invece nell'arte contemporanea. Siamo con l'autore che è Rick Penn, Riccardo Penati, e la tavola si intitola proprio Perdono. E capiamo di che cosa si tratta. Vediamo una donna con una lacrima sul volto, e questa rosa che è un po' anche qui il mezzo che serve per ricostruire ciò che è venuto meno, e quindi chiedere perdono anche tramite il mezzo di un dono, o comunque un segno che rappresenti quello che si vuole ricostruire. Ecco, a volte nel rapporto con le persone esageriamo con le parole, con i gesti, o anche con le situazioni... Nelle liti, questa è una questione probabilmente domestica, rappresenta, un marito, un fidanzato, sembra quello. E la rosa, il fiore, è il mezzo per dire, guarda, voglio ricostruire quello che è venuto meno, e quindi chiedere perdono anche tramite un gesto molto espressivo. E sì, perché a volte è anche molto... Non so se è più difficile portare la rosa, in quel caso, usando questa immagine, e quindi chiedere perdono, o accettarlo, e quindi la donna che piange, no? Sono due ruoli molto difficili. Nel perdono ci sono i due movimenti, è evidente. C'è chi deve proporsi e fare il passo per dire chiedo perdono, c'è chi deve concederlo questo perdono, e quindi ricostruire forse quegli aspetti che sono venuti meno a causa della situazione di tensione o di lite che ha creato una rottura. Ecco, sappiamo che questo è molto importante. Il rapporto tra le persone a volte è molto delicato e bastano pochi gesti, poche parole, per rovinare un rapporto che magari era anche consolidato, era una bella amicizia. Quindi dobbiamo misurare bene le parole da una parte, quindi evitare... Che a volte si fa fatica, no? E anche i gesti. Però ecco, al di là di questo, bisogna avere anche il coraggio, la forza e anche la capacità di chiedere il perdono e di lasciare che questo perdono possa entrare nella nostra vita. Non possiamo a volte mettere un muro, un muro così rigido che non permette più di ricominciare. Io avevo visto il Papa in un'intervista in cui diceva solo una volta non ho perdonato una persona perché ho capito che non era sincero. Che le scuse non erano sincere. La sincerità è uno degli ingredienti, degli aspetti che deve essere messo in gioco. Ovviamente se si presentano delle scuse soltanto formali, allora non si può dire... E la persona lo capisce, è chiaro che non ti perdonerà. Non si può dire che c'è un vero perdono. Magari formalmente si ricostruiscono queste relazioni, ma poi intimamente c'è ancora separazione. Ecco, allora l'autenticità del perdono è ciò che deve essere ricercato. Allora adesso ascoltiamo il padre francescano Matteo Della Torre che rappresenta, ci spiega bene il tema del perdono in tutte le sue sfaccettature. E va molto in profondità su aspetti che sono molto interessanti. Vediamo. Per donare non è facile, lo sappiamo molto bene. Per qualcuno avviene con naturalezza. Per altri sembra una cosa impossibile. Una montagna insormontabile. Soprattutto pensando a quanto si è subito. Il male ferisce. E segna in profondità la nostra umanità. Nonostante questo, credo che in tutti sia chiara questa percezione. Che se noi riuscissimo a perdonare, vivremo più serenamente e in pace. Non capiamo il perdono se non ripartiamo dal bisogno fondamentale di ogni uomo. Cioè quello di essere amati e di amare. La svolta nella vita non è aggiustare tutto. Anche perché molte cose, sai bene, che non si possono aggiustare. E non dobbiamo neanche pensare di pareggiare i conti. Non si può vivere con il senso di colpa di non aver amato, o di aver amato male, o di non essere stati amabili. La svolta nella vita è quella grande decisione che si svolge nel presente, che con coraggio e fiducia ci fa scegliere di rimetterci nel cammino dell'amore. Da adesso. Prova a chiederti che cosa ne vuoi fare della tua vita. E non aspettare la situazione ottimale, quella migliore, quella che risponde agli aspettativi che spesso appiccichiamo proprio alla nostra esistenza. La vita non è bella e dà le vertigini per ciò che accade esternamente, ma è preziosa nella misura in cui ami ciò che hai. Fosse anche un dettaglio piccino. Tutto cambia, non quando salvi la faccia, ma quando ami profondamente quello che sei, nonostante tu non sia perfetto, ma sappi che sei unico. La prima cosa che dovremmo amare riguarda proprio noi stessi, i nostri limiti, le nostre fragilità, perché se ci pensi, più giudichi te stesso in modo negativo e più diventi intransigente nei confronti degli altri. Accettare la propria storia è capire che l'amore ha a che fare con tutto e tutto può trasformare. È come stringersi in un abbraccio. Il perdono è donare qualcosa di nuovo agli altri, qualcosa di importante. L'odio, il risentimento, la rabbia non servono a nessuno perché generano soltanto altro odio e altro rancore. Perdonare è offrire la propria storia e mostrare che con l'amore si può fare tanto. Puoi diventare un testimone prezioso per chi? Per i tuoi figli, per i tuoi amici, per i tuoi colleghi. Perdonare non significa subire senza reagire, perché il male fa proprio male. Perdonare non è un atto di debolezza e di rinuncia dei propri valori. Il perdono profondo, autentico, presuppone coraggio e una grande forza interiore. Perdonare non può essere solo un dovere religioso. Non basta dire perdono perché devo farlo, perdono perché me lo chiede Dio. Certo che Dio ci chiede di perdonare, ma ci chiede di farlo perché Lui desidera che viviamo in pienezza, che viviamo una vita autentica, luminosa, solare, bella. Il perdono ci restituisce a noi stessi e agli altri mostrandoci la bellezza che siamo. Secondo me, posso dirti la cosa che mi ha colpito di più, me la sono anche scritta, è quando dice bisogna imparare ad amare ciò che si è e quindi quei propri limiti, perché solo così puoi accettare anche i limiti degli altri. Sì, è il passaggio dell'autenticità su noi stessi, della conoscenza di noi stessi e del realismo su noi stessi che ci permette di aprirci agli altri in modo autentico e quindi di vivere la gioia del perdono. Altrimenti, se sentiamo questo come uno sforzo che ci toglie qualcosa, che non ci lascia più in pace con noi stessi, diventa inautentico e diventa una difficoltà da vivere che invece, abbiamo capito, il perdono è legato all'amore. Se questi due aspetti così importanti della vita vanno insieme, allora diventano autentici e si possono costruire insieme, costruire un percorso che permette anche di vivere bene con se stessi e con gli altri. Esatto, quindi bisogna uscire dalla propria intransigenza, dal proprio isolamento per accettare i limiti. Bisogna conoscersi e accettare i limiti. Bisogna conoscersi nei propri limiti e nelle proprie capacità e questo permette di vivere bene anche il perdono. Ecco, tu parlavi prima non bisogna mai esagerare con le parole, eccetera, adesso vediamo qualche consiglio da questo punto di vista sull'importanza delle parole. Questo, diciamo, è un consiglio meno teologico, meno psicologico e più pratico. A volte servono le parole giuste e questa youtuber che si chiama Fiorella Zori ci aiuta a analizzare un po' le forme delle parole che si usano quando bisogna chiedere perdono. Vediamo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video disgrammaticando finalmente. Per molte persone non è una cosa semplice chiedere scusa, ma non perché non conoscono le frasi da utilizzare, eh. Bensì perché questa incapacità fa proprio parte del loro carattere. Eppure ci capitano spesso proprio perché siamo umani e sbagliamo situazioni in cui dobbiamo scusarci per qualcosa che abbiamo fatto o abbiamo detto nei confronti di qualcuno ad esempio. Situazioni in cui abbiamo avuto torto. In fondo non è affatto semplice ammettere di aver sbagliato, però ricordatevi che chiedere scusa è una cosa molto importante e anche molto bella. al di là della psicologia e della filosofia, se tu che studi l'italiano non sei capace di chiedere scusa perché non conosci abbastanza espressioni per farlo, continua a guardare questo video perché ti presenterò dieci modi per chiedere scusa. Partiamo da quello più semplice. Scusami e poi ancora perdonami. Mi dispiace o mi dispiace tanto sono mortificato o mortificata sono desolato o desolata che ricorda molto il francese je suis désolé. Io lo trovo molto molto elegante questo modo di chiedere scusa. Chiedo venia ti chiedo scusa non volevo ferirti non era mia intenzione farti rimanere male mi spiace ero arrabbiato e mi sono comportato da stupido spero tanto che mi perdonerai. Notare la recitazione esemplare che vi ho mostrato scherzi a parte le espressioni per chiedere scusa sono veramente tantissime sono numerose quelle che vi ho presentato io si possono addirittura combinare in vari modi tra loro quindi non esistono espressioni più giuste o espressioni più sbagliate a meno che non ci riferiamo magari a un contesto particolare in cui menzioniamo magari anche l'errore che abbiamo fatto ad esempio scusami non volevo risponderti male scusami non volevo dirti quelle brutte cose eccetera eccetera e poi quello che conta è il tono no? sì c'è tutto l'insieme della comunicazione tra due persone che è fatto sia di parole che di gesti che di modalità espressiva quindi si parla o meglio si comunica con le parole ma anche con tutto quello che siamo il tono della voce la postura del corpo i gesti delle mani tutto fa comunicazione quindi se vogliamo perdonare dobbiamo sentirlo dentro in questo modo comunicheremo bene il perdono se non siamo pronti per perdonare se dentro non siamo ancora a posto per vivere e dare il perdono allora forse comunicheremo qualche cosa di non troppo chiaro esatto adesso ci fermiamo qualche istante la linea va alla regia e poi consigli di lettura tra poco rieccoci vediamo adesso qualche consiglio di lettura sempre sull'arte del perdono sì c'è un libro che è edito dall'edizione San Paolo che ha per autori dei membri della penitenzieria apostolica che ha per titolo ti sono perdonati i peccati celebrare il sacramento della confessione della riconciliazione oggi e tratta proprio del tema del perdono ecco c'è questa questo di castero questa realtà molto antica della chiesa che è a Roma e aiuta il Papa a dare il perdono anche in quelle situazioni tutte particolari per cui non basta nemmeno andare da un confessore ma ci si vuole rivolgere all'autorità superiore addirittura al Papa per rimettere a posto la propria situazione con il Signore e quindi cercare di vivere nella pace e ricevere il perdono che si vuole proprio gustare in pienezza ci sono delle normative anche canoniche che portano avanti proprio questo tipo di discorso forse non tutti entrano in questi dettagli ma è bene conoscerli perché a volte per alcune persone sono importanti proprio per ristabilire quella condizione e vivere bene la propria fede e abbiamo proprio un video del cardinale Mauro Piacenza ho incontrato il cardinale Mauro Piacenza che è il penitenziere maggiore quello che proprio risponde a chi si rivolge alla Santa Sede per chiedere il perdono di alcuni peccati specifici lui ci ha dato alcuni consigli anche rispetto alla confessione vediamo lei consiglia a chi è da tanto tempo che non va a confessarsi a fare questo passo capisco questo imbarazzo effettivamente io credo che la miglior cosa sia intanto sapere che se ho sentito questo minimo ecco di interesse per andarmi a confessare vuol dire che la grazia di Dio la grazia preveniente ha funzionato evidentemente ma quella funziona sempre ma ho sentito la sveglia che sono riuscito a sentirla e quindi devo andare già con un maggior disponibilità poi tenere presente casomai per sbloccarsi di dire subito il malopo più grosso sono 30 anni che non mi confesso guardi padre mi faccia delle domande lei perché non so da che parte incominciare e allora indubbiamente il sacerdote saprà farci ecco insomma e consiglio a tutti i sacerdoti di sdramatizzare sempre moltissimo e anzi di dire ah ma che meraviglia così vede il signore l'ha aspettato fino adesso quindi capovolgere la paura in gioia e insomma immediatamente e poi la persona può rispondere appunto alle domande che gli vengono fatte poi vedrà che si sblocca e incomincia a parlare anzi a valanga magari non finisce più e naturalmente in questo senso bisogna molto esortare il sacerdote ad avere il primo approccio molto sorridente molto accogliente questo è un vademecum per voi sostanzialmente per i sacerdoti però ovviamente anche qui sono in gioco le due parti ovviamente il sacerdote è solo un rappresentante di questa misericordia che il signore dà verso tutti poi dopo chi fa questo passo di andare verso il sacerdote per chiedere la riconciliazione il perdono dei peccati ecco deve essere aiutato facilitato perché come diceva il cardinal Piacenza solo sentire questo impulso a vivere questo sacramento per sentire un momento di fede forte un incontro con il signore è già il passo importante quello che fa agire la grazia e poi dopo il sacramento si svolgerà in tutta tranquillità non è un tribunale è un momento di misericordia secondo libro invece cambiamo un po' l'argomento perché qua si parla di evangelizzazione quindi non tanto di perdono si però è proprio ciò che Papa Francesco visto che lui l'autore del libro ha messo al centro del suo pontificato l'amore di Dio è per tutti la passione per l'evangelizzazione ma il collegamento è presto fatto abbiamo visto nella prima parte che perdonare significa amare amare significa perdonare e quindi questo amore per tutti che diventa spinta nell'evangelizzazione secondo l'intuizione secondo la volontà di Papa Francesco che ha fatto proprio della gioia del Vangelo la cifra lo stile del suo pontificato questo amore di Dio per tutti è proprio anche dire il perdono che c'è sempre disponibile per tutti coloro che vogliono vivere un cammino di fede e questo testo riprende proprio ciò che Papa Francesco ha detto ha scritto riguardo all'amore per tutti all'apertura per tutti e quindi alla forza dell'evangelizzazione che deve arrivare a tutti come dice Papa Francesco anche nelle periferie esistenziali e geografiche quindi sappiamo che Papa Francesco tiene ad arrivare fisicamente ma anche spiritualmente anche ai più lontani anche a chi forse in una maniera un po' sbrigativa si considerano gli ultimi o quelli che non dovrebbero essere sotto l'attenzione sua e della Chiesa alla periferia del mondo come era stato detto e infatti ad esempio c'è il primo cardinale della Mongolia cosa che non era mai successa in precedenza perché pur se c'è una piccolissima comunità cristiana lui vuole che ci sia una presenza bella e forte di evangelizzazione così come anche chi si sente più povero e più forse emarginato deve sentirsi toccato dall'amore di Dio e dall'amore dell'evangelizzazione che è l'annuncio della buona novella quindi di una salvezza per tutti l'ultima cosa per chiudere la nostra frase sul punto di luce e qui prendiamo una frase che è classica per dire che cosa significa il perdono e il perdono non si fa una volta ma deve essere ripetuto quante volte dovrò perdonargli è una domanda che viene fatta a Gesù e già si dice fino a sette volte come se fosse il massimo una cosa esagerata Gesù risponde non bastano sette volte e non ti dicono fino a sette volte ma fino a settanta volte sette cioè all'infinito quindi attenzione il perdono non basta darlo una volta sola bisogna essere pronti a riproporlo sempre se lo si dà una volta sola è come dire voglio vivere l'amore con il contagocce ma l'amore con il contagocce non ha senso bisogna darlo interamente bisogna viverlo nella sua profondità e nella sua totalità in questo modo si può vivere il perdono si può dire scusa e si può riprendere un percorso vero di vita e di fede andando oltre va bene grazie a Roberto Ponti come al solito grazie alla regia e come sempre a voi che ci avete seguito alla prossima grazie questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana il settimanale della famiglia grazie a tutti